Adesso lo vedi così, un po' ciancicato, un po'... perché è stato un po' fuori dal giro, capito? Ma questo è uno bravo, e poi è un amico. Federico Lolli, vero? Ha portato qualcosa da farmi sentire? Un testo molto breve, ma è la cosa che assomiglia di più al mio stato d'anima attuale. Là c'è una porta rossa, la vorrei tinta in nero, niente colori, tutto dipinto in nero. Io volterò la testa fin quando arriva il nero. Là c'è una fila d'auto, e sono tutte nere, coi fiori e col mio amore che non tornerà più. Io se mi guardo dentro vedo il mio cuore nero. Poi forse svanirò e non dovrò più guardare la realtà. Come si fa ad affrontare le cose, se tutto il mondo è nero. Bene! Non è niente male. Certo, per recitare Cecco ci vorrà una recitazione un pochino più... Sì, c'è un po' meno... Per me è la parte sua. Senta, la tournée parte fra una settimana, pensa di potercela fare? Ma è certo che ce la fa. Al limite gli do una mano io, no? Senta, Lolly, quel testo, García Lorca, no? Mick Jagger. Senta, Lolly, quel testo, García Lorca, no?